ciao a tutti amici bentornati su net and company oggi siamo in 5 e oggi faremo il panico generale soldi bene che cazzo che c'è 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 qualcuno ma giù andate più avanti però che c'è altro tanta roba che significa c'era andate avanti e ma noi non ci abbiamo un cazzo però qua tutto puro no fate le nostre bene allora 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 ho un dubbio io me ne lato andate ad aiutarli andate ad aiutarli io vi apro le poste ma è tardissimo qua poi venire i mostri andate andate così dividete il peso questo ragazzi questo andiamo presto ragazzi ci sono i canali di adesso che ci vedono quindi dobbiamo essere ceneri se dovessi morire porta questo oggetto ma jessica che non ce la fa col peso avanti dicono di jessica la faccio no 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 se l'hai mangiato per me no era piena di roba peccato ha detto vabbè tanto ce l'ho fatta continuiamo la nostra disavventura non è un problema perché siamo senza torce ok ha ma No, faccia imbuttati, faccia imbuttati Oh Cristo, basta qua No, no, no Te la tieni, te la tieni Bene, bene Ma ora che sappiamo i walkie-talkie vi posso anche guidare Non correre Siamo ricchissimi noi Oh 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 HA! OHH! NAA! NAA! S'è un gogo? No, io sento, passi molto pesanti! Di più. No, e credo di essere qui, ma parte non può passare. Vabbè Come scusate la barba Anche vengo a fare una barba Ma che è su? Ma cosa ho a mia sinistra? Ah vabbè, venite con me, venite con me C'è un pocchio, no! Oh,-oh, non capta è potva Oh! Inizial pass, no! Noo l'ho Ma perché non ho senti più paranoi molto? E schizoflano! Dicete omi, possiamo mangiare! Aiutaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A che corre? Ok dobbiamo essere veloci Io mi ricordo che... Da qua eh! Però ora dobbiamo farla via indietro Quindi per forza da qua dobbiamo andare esatto Ma strabili non sono normali però Ecco abbiamo fatto un 300 metri... 300 km in più che senza niente Abbiamo sentito che uno dico Berkius Ma regalo Io l'ho fatto un taschino Io l'ho entrata nella... Grazie No dai Pensa che noi siamo sempre più paranoico Su No No L'isola sinistra tipo... Continuiamo la nostra disavventura Allora Come siamo appena entrati dalla principale Vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! È morto! È morto! È morto! Sei vivo? Tutto bene? Sì sì! Vai! Ma i due sono morti eh! Come sono morti? Arriviamo! Sono morti! Francesi sei? Francesi sei? Sì sta qua Dove? Qua Ok lo trovo altro Ci sta sborda me Vieni Francesi vieni andiamoci Comunque il puntatore NASEG è buono Eh sì Non so se conviene venderlo questo eh Forse i certi morti sono tirati Bene Bene Bene